La sclerosi multipla rappresenta la prima causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. Cronica e imprevedibile e spesso progressivamente invalidante, la sclerosi multipla è un'emergenza sanitaria e sociale. Solo nella regione siciliana le persone affette da questa malattia sono quasi 10.000. L'associazione italiana Sclerosi Multipla chiede in tutta Italia l'istituzione di un registro territoriale e la Sicilia diventa la prima regione della penisola a rispondere. Oltre al registro territoriale di patologia è stato istituito anche un osservatorio che ha la funzione di poter rendere permanente l'attività di monitoraggio su tutta la regione. I lavori svoltisi presso Villa Malfitano a Palermo sono stati introdotti da Angelo Lavia, presidente del coordinamento AISM Sicilia. Oggi l'assessore regionale Razza avrebbe dovuto firmare la carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla ma non l'ha fatto. Perché? Perché sono certo che da attento studioso qual è l'assessore Razza è conoscitore della realtà e quindi della non applicazione ancora corretta di ciò che le persone con sclerosi multipla chiedono con la carta dei diritti e si è impegnato di sottoscriverla fra un anno quando l'associazione lo potrà misurare. Ci sono ancora carenze nella regione nonostante i tanti passi avanti che sono stati fatti? Sì, ci sono alcune carenze, alcune magari gravi, alcune meno gravi ma penso che l'assessore avendo avuto già contezza di ciò che sta programmando e degli impegni assunti ed oggi anche ufficialmente e pubblicamente ci darà risposte concrete nel più breve tempo possibile. Certo, quello che noi vogliamo è che ci sia a meno un centro in ogni provincia e che ci sia un accesso tempestivo alla cura della sclerosi multipla. Paolo Bandiera, direttore affari generali AISM, ha coordinato la tavola rotonda incentrata sulla sclerosi multipla nella programmazione della regione, sul registro regionale di patologia e sulla realtà riabilitativa regionale per la sclerosi multipla. Presente anche l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Oggi istituiamo il registro sulla sclerosi multipla in Sicilia, istituiamo anche un osservatorio che ha la funzione di poter rendere permanente l'attività di monitoraggio su tutto il territorio della regione perché come sempre capita esistono dei territori nei quali maggiore è l'attenzione anche per l'applicazione dei percorsi diagnostico-terapeutici e altri invece che hanno bisogno di essere seguiti con maggiore presenza sia da parte dell'assessorato che da parte delle direzioni generali strategiche delle aziende sanitarie siciliane. Da parte mia l'osservatorio vuole essere un contributo alla individuazione di un meccanismo collegiale di monitoraggio di ciò che va bene e di ciò che merita di essere migliorato. Accesso ai farmaci, accesso alle terapie, quello che la regione sta cercando di garantire a tutti con questi due strumenti, l'importanza del registro? L'importanza del registro serve anche a comprendere in maniera seria le dimensioni di un fenomeno e osservarlo dal punto di vista epidemiologico. L'accesso ai farmaci è un tema molto significativo che però riguarda anche l'appropriatezza delle prescrizioni. Non esistono malati ai quali non vengono consentiti dei farmaci ma c'è una crescente richiesta di particolari applicazioni farmacologiche che devono trovare da parte del medico prescrittore una adeguata attenzione nel momento in cui viene formalizzata la richiesta. Dal punto di vista strettamente della regione siciliana le regole che sono poste dalla Costituzione a tutela del diritto alla salute non possono che essere preservate nel territorio della regione e ovviamente per tutti i cittadini. L'associazione lavora molto strettamente con la regione sicilia, l'assessore alla salute e da cinque anni abbiamo un PDTA dedicato alla patologia. È arrivata la fase in cui dobbiamo cercare di renderlo concreto e applicarlo pienamente per garantire a tutte le persone di associazione multipla in tutto il territorio regionale un uguale standard di diritti e risposte di cura. Oggi sono venute fuori delle risposte importanti. La prima, l'assessore ci conferma l'istituzione di un registro regionale di malattia, la seconda, arriveremo ad un osservatorio regionale per lavorare assieme ed applicare concretamente il PDTA nei territori ed infine un impegno per potenziare la rete dei centriclinici e dare risposte sempre più uniformi su tutto il territorio, assieme regione e associazioni. Questo penso che sia davvero il valore che ci dà fiducia per affrontare queste sfide e arrivare a dei risultati concreti. Il registro regionale di malattia per la scorsi multipla è uno strumento essenziale per la conoscenza curata del fenomeno in tutte le province e per disporre finalmente di dati su cui poggiare la pianificazione e le scelte e per la rete e per incrementare il livello di risposte anche sul territorio. Quindi il registro come la precondizione per dare una migliore risposta a tutte le esigenze di salute delle persone con un SM di tutta la regione di Sicilia. In Italia le persone affette da questa malattia sono 122.000. Questi dati che emergono dal barometro della sclerosi multipla 2019 restituiscono una fotografia precisa scattata dall'Associazione Nazionale Sclerosi Multipla dell'impatto sociale ed economico di questa malattia cronica.